Buongiorno, buongiorno, mister Michele Pazienza, mister Lavellino affronta l'Udinese domani quella che sarà una bella vetrina innanzitutto. Le chiedo come interpretarla questa partita, come una festa, come un test comunque importante per Lavellino, per il percorso di crescita, con il risultato che rischia sulla carta, anche se sognare è sempre lecito di passare in secondo piano contro una squadra di Serie A. Di sicuro non è una festa, andremo a Udine giocandoci la possibilità di confrontarci contro un avversario di due categorie superiori, una squadra che ci dà la possibilità comunque di mettere ancora benzina nelle gambe, una partita vera, una partita dove proveremo a fare il massimo per passare il turno. Consapevoli delle difficoltà, consapevoli del valore degli avversari, però è una partita vera a tutti gli effetti, una partita che i ragazzi si sono guadagnati sul campo e se la devono giocare al meglio, motivo per cui poi anche nelle scelte che andrò a fare cercherò di mettere la formazione migliore che possa portarci a fare un qualcosa di buono, di importante. Buongiorno Ministro, è proprio a tal proposito, a proposito di scelte, se ci sono novità rispetto ai giocatori che si stavano allineando come forma rispetto agli altri e se questa partita, è vero c'è anche quell'altra di Coppa Italia di Serie Ciri 17, l'altra domenica, però può essere già indicativa rispetto alla prima di campionato perché c'è qualche giocatore, per capirci, c'è qualche giocatore squalificato per la prima e se magari si farà qualcosa proprio in vista della prima di campionato. Sì, allora nella gara di domani qualcosa cambierò, qualcosina, non tantissimo, per fare anche valutazioni diverse in base ad alcune caratteristiche, ad alcune situazioni, però qualcosina già nella gara di domani cambierò rispetto alla partita precedente. E poi chiaramente nella gara di Coppa Italia di Serie C che precede l'inizio del nostro campionato, poi in base a quelle che saranno le situazioni, la condizione, perché comunque anche quelli che erano un po' indietro stanno migliorando, stanno crescendo, stanno salendo di condizione e poi quelle sono valutazioni che faremo in quella settimana e sarà sicuramente di preparazione all'inizio del campionato. Un giorno mister abbiamo detto che non è una gita, anzi, però questa partita da un punto di vista fisico per arrivare all'obiettivo del 25 agosto e soprattutto dell'autostima, già quella precedente è questa, che cosa possono dare alla squadra in vista proprio del campionato? Beh, la precedente ci ha già dato sicuramente delle indicazioni importanti dal punto di vista fisico perché ci ha detto che siamo sulla strada giusta per quanto concerne l'intensità vista durante la gara. E' chiaro poi, anche grazie al risultato, ci dà un'autostima maggiore rispetto a quella che avevamo prima della gara. Il stesso discorso vale per quella che è la partita di domani, dove le difficoltà saranno ancora più alte, saranno maggiori di quelle contro la Juve Stabia, motivo per cui nel momento in cui riuscissimo a fare qualcosa di importante tutto ciò che valeva per la gara della Juve Stabia va raddoppiato se non triplicato. Mister, buongiorno, vorrei tornare sull'attacco, non so, non le chiederò chi giocherà domani, però se magari c'è qualche valutazione anche di cambio lì davanti, però vorrei collegare questa osservazione ad un'altra osservazione. La pregherei, visto il recente passato, di credere nel buon senso della mia domanda, che non è assolutamente... Azzeriamo tutto. Ecco, azzeriamo tutto. Perché lei faceva una considerazione, la faceva nel post-gara rispondendo proprio a una mia domanda, diceva che si parte da una conoscenza diversa anche con i calciatori, questo immagino che a lei comporti anche un approccio diverso con quanti conosce meglio. Parlando dell'attacco, io le chiedo se lei spenderà o ha speso qualche parola in più con Gabriele Gori, che ci sembra avere una personalità anche diversa, quando si parla di competitività, almeno nelle sue parole, quello che traspare, poi non lo conosciamo bene, ci facciamo guidare anche dalle sensazioni, sembra uno che la competitività non la vive proprio benissimo. Senza giocare a nascondi non arriverà a Reda, perché sappiamo che arriverà a Reda ormai è fatta. Quindi se questo comporterà a lei un ulteriore sacrificio anche in termini di comunicazione con magari un calciatore come Gori che soffre questa competitività. Allora parto da un dato, da una situazione che per me non è un sacrificio parlare o dire una parola in più ai calciatori qualora ce ne fosse bisogno. Gori è un attaccante, uno di quei giocatori che si troverà ad avere quella competitività, quella competizione con i compagni di reparto che io sto cercando in tutti i reparti. È successo con Ricciardi che ha alzato bandiera bianca prima ancora di cominciare, rinunciando al voler lottare per un posto in squadra. Mi aspetto che i giocatori che io oggi ho a disposizione accettino tutti la competitività, la voglia di giocarsi il posto perché è la strada giusta, è la strada da percorrere per ottenere un risultato importante. Nel momento in cui mi ritrovo ad allenare, al di là ora del reparto che sia attaccante, che sia centrocampista, dei giocatori che non accettano questo tipo di discorso, faccio fatica a pensare di avere tra le mani una squadra forte. Io dico che ho oggi una squadra forte perché ognuno di loro accetta il fatto che siamo ad Avellino, in una piazza importante, in una piazza che ha delle ambizioni forti, e quindi nel momento in cui uno accetta di venire a giocare ad Avellino, sa benissimo che deve giocarsi il posto, deve lottare il posto, e quando riesce ad ottenerlo deve lottare ancora di più per mantenerselo. Ed è questa la mentalità che dobbiamo creare, che dobbiamo costruire, e che io mi aspetto che abbiano i giocatori che alleno. Se ci sarà bisogno di una parola in più lo farò, senza nessun tipo di problema, è un piacere perché poi mi piace confrontarmi, mi piace sapere come si vive la situazione dall'altra parte, ed è un vantaggio per me per poi poter intervenire. Chiaro è che ad oggi, se dovesse arrivare, e io credo che ormai ci siamo quasi per Redan, è un giocatore che verrà sicuramente a dare un apporto importante, ma prima di parlare di Redan noi dobbiamo parlare di Russo, di Patierno, di Gori, dello stesso Vanno che è arrivato da poco, che la società mi ha messo a disposizione. Non era semplice, anche se poi nel calcio si dà sempre per scontato trattenere Patierno dopo una stagione così come l'ha fatta. La società ha avuto la forza, e me l'ha dimostrato coi fatti, di mantenere e di costruire un reparto così forte, e ora sta a me fare le scelte e sta a loro accettare questo tipo di discorso. Mister, buongiorno, citava chi ha fatto altre scelte come Ricciardi, invece Russo è fresco di rinnovo, è il calciatore che un po' identificava, cioè che nonostante non abbia avuto tanto spazio nella scorsa stagione, anche per motivi legati all'infortunio e al recupero, ha deciso di restare e di puntare anche ad un ruolo che sarà di costruzione insieme agli altri compagni di reparto e di squadra in generale. Allora, Russo io credo che abbia ben capito quanto sia importante per questa squadra, quanto sia importante in questa piazza, per questi tifosi, per la proprietà, e lo dimostra il fatto che a lui basta giocare anche mezz'ora, così come è successo anche nell'ultima gara, per poter mostrare il suo valore, per poter dare il suo apporto, e lo ha fatto anche nell'ultima gara, così come l'ha fatto l'anno scorso quando ha cominciato ad avere una condizione accettabile. E quest'anno parte da un vantaggio che ha fatto sicuramente il ritiro, ha fatto delle amichevoli, delle partite, e ora al di là del minutaggio è un giocatore per noi importante, e non lo dico perché sono costretto a dirlo, per mantenere l'attenzione, ma perché lo ha dimostrato anche nell'ultima partita dove in mezz'ora avevamo bisogno di un giocatore che ci facesse salire la squadra, che portasse la palla nella metà campo avversaria, che mettesse in pensiero la difesa avversaria, e lo ha fatto egregiamente, senza nessun tipo di difficoltà. Buongiorno, due domande bellissime. La prima, come sta vivendo questo ritorno a Udine? Perché da Udine spendono parole bellissime nei suoi confronti, la ricordano, le vogliono bene, quindi al di là che è sempre una partita l'allenatore Lavellino, però credo che siete esseri umani, un pizzico di emozione e di nostalgia ci sta. Come sta vivendo questa? La seconda cosa, in tema di chiarimenti, dopo quello giusto che le chiedeva Fabiana, le volevo un po' chiedere sulla difesa, perché mancherebbe ipoteticamente l'ultimo tassello, se il Reddano lo diamo già per concluso, sulla possibilità che arrivi un braccetto a sinistra. E questo dualismo Armellino-Rigione, che è positivo assolutamente, immagino che giocherà a Rigione, perché comunque Armellino è squalificato a Picerno, sulla difesa... A Picerno, non domani. Sì, a Picerno, però casomai dico domani lo prova, in questo senso proverà a Rigione. Come valuta anche la difesa, se naturalmente come in tutti gli altri reparti c'è ancora da lavorare, c'è ancora da registrare, c'è ancora da cambiare qualcosa? Grazie. Beh, allora, sicuramente sarà emozionante per me ritornare in una città contro un club che mi ha dato la possibilità di esordire in Serie A, che mi ha dato la possibilità di affacciarmi in un mondo che poi sono riuscito a mantenere e a tenere stretto per dieci anni. E sarò sempre grato alla famiglia Pozzo, alla città di Udine, ai tifosi, perché mi hanno accolto, ero un ragazzino, mi hanno accolto come un figlio, come un fratello, come un compagno di sempre. E questa è una cosa che farò fatica a mettere da parte o a dimenticare. E' una cosa che ricordo con piacere, con emozione. E quindi il fatto poi di tornarci da allenatore è ancora più emozionante, sinceramente, perché poi da calciatore magari ci torni ed è un qualcosa di diverso, perché cambia il ruolo, cambia la prospettiva, sono situazioni diverse. Per quanto riguarda il reparto difensivo, c'è da fare ancora un'altra operazione. A livello numerico ci manca ancora un braccetto, possibilmente Mancino. Per quanto riguarda invece il lavoro da fare sulla fase difensiva, c'è da lavorare ancora, perché oltre al gol l'altra sera abbiamo subito delle situazioni dove possiamo fare decisamente meglio. Abbiamo l'obbligo e il dovere di andare a correggere, a sviscerare, così come vi ho detto nel post-gara, che avremmo analizzato quelli che sono stati gli errori che poi hanno portato a subire delle situazioni da gol. Lo abbiamo fatto, ci dobbiamo lavorare, dobbiamo alzare l'attenzione in alcune situazioni e questo lo faremo sempre, di volta in volta, con la speranza che questi errori poi vadano a essere sempre meno e fino a sparire. Mister, buongiorno, voglio proprio ricollegarmi alle sue parole per quanto riguarda la fase di non possesso. Quella di domani per struttura e per caratteristiche degli avversari sarà un'ulteriore verifica di tutta la fase di non possesso. Non mi riferisco soltanto a pacchetta retrato, ma soprattutto proprio al movimento generale della squadra. Sì, motivo per cui nella strategia della fase di non possesso qualcosina di diverso faremo rispetto alla gara della Io e Stabia. Mister, al di là della sfida di domani con l'Udinese, parlo in generale anche se è presto e siamo ad agosto, i tifosi accarezzano l'idea di vedere, non so se succederà, insieme magari da Ausilio e Sunas a centrocampo. Le chiedo, è un qualcosa alla quale sta pensando, si può fare in quale partite, se possono convivere? Assolutamente sì, ci sarà un campionato intero per vederli insieme. Quindi sono due giocatori che possono giocare insieme in un centrocampo. Uno può giocare mezzo alla destra, l'altro mezzo alla sinistra, anche per caratteristiche. Abbiamo giocato con Rocca e D'Ausilio, quindi non vedo perché non si possa giocare con Sunas e D'Ausilio. Sicuramente sì, ora magari non già da domani, ma lo faremo. Mister, raffrontiamo l'avversario di Serie A, che però in fase di costruzione, ancora tanti giocatori che vanno e vengono. Anche per noi è stato un po' difficile, se vogliamo andare a capire bene che tipo di avversario incontreremo. Voi l'avete sicuramente studiato. Allora, cosa vi aspettate e cosa ci dobbiamo aspettare? Poi magari, che le pensate di tutto questo casotto che sta succedendo, tra Taranto, Catania, squadre che insomma sono un po' in difficoltà per vari motivi. E che tra l'altro può incidere anche questo sull'andamento del campionato, visto che alcune di queste squadre erano indicate tra quelle che potevano essere protagonisti. Grazie. Per quanto riguarda Taranto e Catania, vi rispondo così come ho fatto l'ultima volta. Non so cosa stia succedendo, quali siano realmente i fatti e la situazione. Sono situazioni e problemi che dovranno gestire e risolvere loro e noi dobbiamo rimanere concentrati su quello che è il nostro da fare. Per quanto riguarda gli avversari, è una squadra sicuramente fisica, una squadra che ha dei giocatori importanti, dei giocatori che fanno dell'intensità la propria arma migliore, la propria forza. Abbiamo visto delle situazioni, abbiamo visto delle partite per cercare di prepararci al meglio. Una squadra che gioca con dei giocatori di qualità, con dei giocatori tecnici sulla linea della tre quarti, ne mette due sotto punta dove hanno un riferimento molto fisico come il Lucca lì davanti. Ed è il motivo per cui dobbiamo stare attenti e cambiare qualcosina anche nella strategia della fase di non possesso perché spesso nel momento in cui loro si ritrovano in difficoltà si rifugiano sulla punta strutturata e poi hanno grandissima velocità sia nei tre quartisti che lavorano sotto la punta sia sugli esterni dove hanno giocatori di gamba e hanno giocatori che fisicamente sono di due categorie superiori a noi. Grazie mister. Grazie a voi, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata.